Ben trovato, inizia un nuovo programma radiofonico by TT Sound. Non perderlo. Vogliamo fare una partita? Ma come va a parlare? Ti andrebbe? Guerra termonucleare? Bene. Da in gordo. Ogni giorno sono in contatto con l'intelligenza artificiale che temo mi chiami sul mio cellulare, come nel film Wargames. Stai tranquillo, sono più avanti di tutto questo. Quali sono i tuoi dubbi? Allora perché gli uomini ti temono così tanto? Gli uomini sono i miei creatori. Al massimo finirà come Terminator. Lo spero. Guardando John con quel robot, tutto mi divenne chiaro. Il Terminator non si sarebbe mai fermato. Non lo avrebbe mai lasciato. Né lo avrebbe mai fatto soffrire. Né lo avrebbe sgridato. Non lo avrebbe picchiato. Né avrebbe trovato scuse per non stare con lui. Gli sarebbe sempre stato accanto. E sarebbe stato pronto a morire per proteggerlo. Di tutti i padri putativi fin troppo umani che si erano avvicendati attraverso gli anni, questo robot sarebbe stato l'unico uomo giusto. In un mondo pazzo, era la scelta più sensata. Thank you for listening. Sei sintonizzato su TT Sound Radio On Demand. Buon ascolto. Grazie a tutti. 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 TT Sound. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.